noi che vi accompagniamo da mattina sera quando piove quando c'è vento quando nevica e quando il caldo è soffocante noi che sosteniamo i vostri ritardi che sopportiamo la vostra impazienza ed il vostro nervosismo chi si prende cura di noi dopo una giornata di duro lavoro nessuno nessuno sì cozzimo il nuovo asciuga scarpe di comfort domo cozzimo si prende cura delle vostre scarpe e quindi anche di noi piedi cozzimo rinfresca l'interno delle scarpe grazie una dolce brezza silenziosa ed elimina i cattivi odori dopo una giornata di sforzi elimina gli odori dovuti alla sudorazione acida causata dai tessuti sintetici e l'umidità che ristagna impedendo il proliferarsi delle micosi un semplice gesto e benvenuto buon umore cosa c'è di più piacevole di svegliarsi al mattino in un ambiente sano caldo confortevole e libero dall'inquinamento della città